Ciao ragazzi, oggi voglio parlarvi di un'esperienza che mi ha cambiato profondamente la vita. Proprio come sta succedendo a voi, qualche anno fa, durante le ore di lezione, mi è stata prospettata la possibilità di diventare arbitro di calcio. Ho iniziato un po' per gioco, ma negli anni l'arbitragio mi ha cambiato la vita in modo di rompente. Tra sacrifici, delusione e tante soddisfazioni, oggi sto vivendo con entusiasmo la mia esperienza da arbitro nazionale. Il corso Arbitri ha una durata di circa due mesi, con due lezioni alla settimana in cui approfondiremo le regole del gioco del calcio. Al termine del corso, completamente gratuito, si è sottoposti ad un semplice esame, superato il quale sarete a tutti gli effetti degli altri di calcio. Avrete diritto a un compenso per ogni parte arbitrata, una tessera con cui accedere gratuitamente in tutti gli stati d'Italia, crediti scolastici e materiale tecnico ufficiale. Una volta arbitri, potrete accedere al collo atletico, guidati da un preparatore, e avrete la possibilità di partecipare alle attività integrative organizzate dalla sezione, tra cui torneri di calcio tra le sezioni di tutta Italia. Le porte della sezione saranno sempre aperte, sia per approfondimenti tecnici, sia per il semplice gusto di stare insieme. Come avrete capito, l'arbitraggio non è solo regole al campo, è soprattutto un'occasione per arricchirsi come persone. Si cresce in compagnia e si impara a decidere da soli. Si entra a far parte di un gruppo, di una squadra, la squadra degli arbitri. Nella nostra famiglia ci sono più di mille donne e molte di loro arbitrono ogni domenica a gare di livello nazionale ed internazionale. Proprio la sezione di Trento è stata tra le prime a vedere una donna calcare i campi di Serie A. E tu, cosa aspetti? Non perdere l'occasione, accetta la sfida! Iscriviti anche tu al corso per diventare arbitro di calcio. Per maggiori informazioni, contattaci ai nostri canali.